L'inflazione rallenta ancora la sua corsa. Secondo le stime preliminari dell'Istat, ad agosto 2023 l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo ha fatto segnare un aumento dello 0,4% su base mesile e del 5,5% su base annua rispetto alla più 5,9% del mese precedente. Il rallentamento si deve prevalentemente ai prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, degli alimentari non lavorati e dei servizi relativi ai trasporti. Questi effetti sono stati solo in parte compensati da una moderata accelerazione dei prezzi dei servizi relativi all'abitazione e dall'attenuarsi della flessione degli enti energetici regolamentati. L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta ancora da più 5,2% a più 4,8%. Si affievolisce la crescita su base annua dei prezzi dei beni e quella dei servizi. L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a più 5,7%.